Questo progetto Wabi è una ricerca su un legno di riva con ferro, dunque il concetto è che noi in Giappone abbiamo una contenitoria antico tradizionale si chiama Kori che dove si mettevano una roba importante che con un segno di disegno molto semplice noi abbiamo ripreso un po' questa tradizione che qua abbiamo realizzato un disegno di credenza con un segno molto minimale con due materiali insieme e poi questa parte di metallo abbiamo studiato un po' di trattamento insieme con artigiano di riva e credo che è venuto molto interessante. Poi abbiamo presentato anche tavolo occhi vuol dire che è un grande albero, infatti hanno messo in ingresso una Kori, un legno di 50 mila anni, di 4 metri, molto grande, molto pesante, con piedi di ferro sardato, sardato a tutta vista, molto artistico. Volevo dedicare a Riva è una grande azienda di regno che volevo dare un'identità da parte nostra. Con Rashid è diversi anni che va avanti, non tantissimi, ma è veramente bellissimo, quest'anno abbiamo lanciato un progetto, un discorso dicendo che avremmo voluto il fuori scala da lui e lui ha disegnato questa grande testa, Global Love, e spiega in definitiva che sul nostro mondo non ci devono essere confini. Ritengo che sia un grande messaggio più che una scultura che noi abbiamo fatto con grande voglia. Ha il peso notevole di 75 quintali, quindi molto pesante. È stato bravo, perché è anche molto bravo il suo. Anche quest'anno abbiamo presentato tantissimi progetti nuovi, tra i quali Sezzo, Ito e poi non solo lui, ma anche Bendini, anche per dire Terry Duan e tante altre cose. Continuiamo la nostra strategia del legno naturale, degli oli, delle filosofie naturali e stiamo già preparando per il 2015 perché debba essere mandato un messaggio forte. Ma l'anticipazione? Probabilmente lavoreremo su un percorso che è quello di alimentare il nostro pianeta anche usando il legno, ma facendo una strategia in ogni e per ogni direzione, insomma, ecco. È molto importante per me ciò che ho voluto fare per aiutare l'artigianato creando il Brianza Design per la Brianza Comasche Milanese e su questa situazione sta andando benissimo. Chi vuole entrare in questo progetto come designer e anche come laboratorio Brianzolo deve entrare nel sito di Brianza Imprese, BrianzaDesign.net, ecco, e quindi per aiutare i giovani e veramente gli artigiani.